Napoli 0, Genoa 0. Finalmente si è vista una squadra di leoni. Finalmente si è vista una squadra con coglioni. Se mi vedete tutto imbaccuccato con maglione, cappellino, perché sono andato a vedere la partita al club Genoa-Genova-Pegli, club del mio quartiere, ovvero Pegli, quartiere di Genova, che ringrazio per avermi dato l'opportunità di vedere la partita assieme a tutti i componenti del club e volevo salutarli. Quindi ciao, grazie mille al club del mio quartiere. Comunque, parliamo della partita. Genoa che gioca un match alla pari contro una squadra, mi sento di dire, molto più superiore. È vero, il Napoli non è in condizioni buone, anzi, proprio in condizioni pessime, però bisogna contare che noi siamo in condizioni non pessime, di più. Se mettiamo le condizioni delle due squadre a confronto, prima della partita, la condizione del Napoli era nettamente superiore, perché comunque rimane il Napoli, rimane una big e ha pur sempre due giocatori come Mertens e Insignia là davanti. Il Genoa non aveva neanche qua me. E dopo la partita contro l'Udinese, persa per 3-1 in casa, eravamo molto demotivati. Stasera abbiamo fatto una partita da Leoni, quindi complimenti ai ragazzi, complimenti a Tiago Motta, complimenti a tutti. Stasera avete fatto un partitone. Diciamo che il Genoa non ha rischiato molto nell'arco dei 90 minuti, come il Napoli. Soltanto che noi abbiamo avuto un'occasionissima con Pina Monti, lì, Coulibaly la salva sulla linea. Però del resto non è che le due squadre abbiano rischiato più di tanto, alla fine il pareggio direi che è più che giusto. Volevo parlare un attimo del fatto del rigore di Di Lorenzo. Il rigore per me c'era, ma la punizione fischiata prima del calcio di rigore, non puoi dare un fallo del genere. Infatti il VAR, se non ho capito male, ha detto che la punizione fischiata prima del calcio di rigore, che secondo me c'era, non si può dare. E quindi ha lasciato così, anche se secondo me il rigore c'era. Comunque a me importa che la prestazione sia stata all'altezza, mi importa soprattutto aver preso il punto. Mi importa aver preso il punto perché tu adesso vai a Ferrara a giocare una partita non importante di più, ci vai motivato. È vero, anche con l'Udinese eravamo abbastanza motivati della grande prestazione, però bisogna contare che con la Juventus avevamo comunque perso. Avevamo comunque perso, quindi eravamo abbastanza stremati. Eravamo comunque abbastanza tristi della sconfitta contro la Juve che si poteva evitare, ma lasciando perdere il dodicesimo uomo in campo, l'arbitro. Comunque non stiamo più a parlare di questo perché adesso... Adesso tu a Ferrara ci vai con un punto in più, ci vai più tranquillo perché ti porti... Allora, siamo momentaneamente a più 1 sulla Samp, a più 2 sulla Spal. Siamo definitivamente a più 2 sul Brescia che oggi ha incassato un brutale 4-0 in casa con il Torino e ci portiamo momentaneamente a meno 1 da Lecce. Bisognerà vedere da cosa fanno queste tre squadre domani. Però, tu vai a Ferrara contro una squadra del tuo livello motivato e io a Ferrara voglio una squadra di 11 leoni. Voglio vedere una squadra come stasera. Io non mi sento di criticare nessuno stasera. Mi sono piaciuti tutti, soprattutto in difesa. Siamo stati attentissimi e per questo motivo il Genoa non ha rischiato più di tanto. Sì, nell'arco dei 90 minuti diciamo che si è giocato più nella metà campo del Genoa ma ci sta. Giochi contro una squadra nettamente superiore e ti sei difeso più che bene. Quindi, io mi sento di dire che il pareggio è più che giusto. Anche perché il Genoa non ha rischiato, nonostante si sia giocato molto di più nella metà campo del Genoa che in quella del Napoli. Quindi, non ho altro da aggiungere. contentissimo di questo punto che ci porta a Ferrara più motivati, più tranquilli. Adesso, contro la SPAL, vi voglio così. Vi voglio così. Voglio 11 leoni in campo. Ciao a tutti e forza, vecchio grifone. Che capelli di merda, eh? Ciao a tutti. Grazie a tutti.